Questi sono i migliori giochi in uscita a settembre, per noi ben inteso. Non li elencheremo tutti, ma abbiamo semplicemente fatto una selezione di titoli che riteniamo essere più interessanti. Tra l'altro molti giochi in uscita arriveranno anche sui vari servizi, soprattutto Game Pass, ma ci sono novità anche lato PlayStation Plus, quindi andiamole a vedere insieme. Age of Mythology Retold arriverà il 4 settembre in uscita su PC e console Xbox. Sarà inoltre incluso al Day One sul Game Pass. È una remaster del grande classico del 2002, con una veste grafica rifatta da zero e diverse meccaniche e funzionalità tratte dagli RTS moderni. La campagna principale comprende le 50 missioni del gioco base e dell'espansione The Titans. Tornano con un completo rework delle unità i 4 Pantheon originali, con le divinità del popolo egizio, norreno, greco e di Atlantide. Tra i contenuti futuri, gli sviluppatori hanno poi annunciato l'introduzione di un nuovo Pantheon cinese e di un altro di cui ancora non si conosce l'identità. Il 6 settembre Astro Bot uscirà in esclusiva su PlayStation 5. Platform 3D in cui il giocatore controlla un robottino chiamato Astro attraverso 80 livelli, suddivisi in 6 galassie e 50 pianeti, con lo spostamento tra le galassie che avviene a bordo del Dual Speeder, un'astronave a forma di DualSense. Come succede in Astro Bot Rescue Mission, uscito nel 2018 su PS4 per PSVR1, ogni livello contiene un certo numero di bot da salvare, tra i quali troviamo i bot VIP, robot con riferimenti ai personaggi più famosi ed iconici dell'azienda nipponica. Astro ha accesso a 15 nuove abilità, ognuna delle quali assomiglia ad un animale, che potenziano sia le sue capacità combattive che di spostamento. Il gioco presenta diverse impostazioni di accessibilità, che includono la possibilità di giocare con un solo stick analogico, il supporto al controller PlayStation Access e l'opzione di disattivare il giroscopio. Warhammer 40.000 Space Marine 2 verrà rilasciato il 9 settembre, in uscita su PC, PlayStation 5, Xbox serie X ed S. Come per il primo episodio, si tratta di un FPS cinematico in terza persona, che ci mette al comando di uno Space Marine. La campagna principale potrà essere affrontata da soli, oppure in co-op fino a tre giocatori, e ci vedrà alle prese con l'invasione di uno sciame di tiranidi. A proposito di Orde, gli sviluppatori sono proprio gli stessi di World War Z, e dal numero di nemici a schermo si vede come. Saranno presenti anche due modalità solo online, operazioni in co-op PvE ed incontri classificati 6 contro 6, tra squadre di Space Marines, leale all'imperatore, e traditori del caos. Il 12 settembre, UFL verrà rilasciato su PS5 ed Xbox Series X ed S, mentre la versione PC e mobile è in sviluppo. Il simulatore calcistico free-to-play targato Strikers sta per vedere finalmente la luce. La modalità principale è una sorta di foot, in cui si crea la propria squadra, scegliendo tra circa 5.000 calciatori reali, e si compete online con altri giocatori. Vincendo le partite e scalando le divisioni si sbloccano ricompense e carte sempre più rare. I calciatori acquisiscono esperienza, sbloccando così punti e abilità che possono essere impiegate per migliorare diverse caratteristiche, ed è presente anche un sistema di carte che garantisce ulteriori benefici. Il gameplay si avvicina molto a quello dei vari FIFA e EFC. Abbastanza frenetico, ma non troppo. Per un approfondimento su questo aspetto vi invito a guardare l'analisi dei pregi e difetti che ho fatto qualche tempo fa sull'ultima beta. Tornando al gioco, le altre modalità sono Partite online non competitive 2 contro 2 3 contro 3 Offline contro l'IA o un altro giocatore e tornei personalizzati. Il 19 settembre Enotria The Last Song arriverà su PS5, Xbox Series X ed S e PC. Gioco di ruolo action in stile Souls ambientato in un mondo dark fantasy ispirato al folklore del bel paese. Il mondo è attanagliato dal canovaccio, una rappresentazione distorta e costante che mantiene il mondo in una stasi innaturale. Il protagonista è il senza maschera, l'unico in questo mondo a poter decidere del progetto. Il sistema di combattimento si basa su attacchi leggeri, pesanti, abilità dell'ardore, schivate e perri, con la possibilità di ridurre la postura del nemico fino a sbilanciarlo e potendo così infliggere un colpo critico. Molto simile al sistema di combattimento visto nel recente Lies of P. Ci saranno oltre 30 maschere equipaggiabili, ognuna con i propri punti di forza e debolezza, con la possibilità di poter alternare tre equipaggiamenti personalizzabili in tempo reale. Il 20 settembre Frostpunk 2 sbarcherà finalmente su PC e sarà incluso al Day One nel Game Pass, mentre per quanto riguarda le versioni console bisognerà attendere ancora un po'. L'acclamato city builder post-apocalittico di Eleven Beat Studios sta per fare ritorno con un nuovo capitolo. Ambientato 30 anni dopo la bufera apocalittica che ha devastato la terra trasformandola in una landa ghiacciata, l'umanità si è riunita in grossi complessi urbanistici al fine di ricostruire la società umana. Rispetto al primo capitolo, dove gli edifici venivano costruiti singolarmente e per un numero di persone piuttosto limitato, lo sviluppo della città viene affidato alla creazione di distretti specializzati, che aumentano drasticamente il numero di cittadini da gestire. Questi si uniranno in diversi gruppi che porteranno alla nascita di vere e proprie fazioni politiche, con ideologie più o meno estremiste, che possono sfociare in manifestazioni di dissenso e nel peggiore dei casi a vere e proprie sommosse. Starà a noi, in qualità di amministratore, impedire che quei conflitti distruggano la città. Anche di questo ho giocato la demo qualche tempo fa, se vi interessa approfondire vi lascio il video nelle schede. Hara, History Untold, uscirà il 24 settembre, in esclusiva su PC. Sarà inoltre inclusa al Day One sul Game Pass. È un nuovo rivale di Civilization. Uno strategico a turni dove potremo guidare un popolo dalla preistoria fino allo spazio. Ho provato il gioco qualche mese fa e per distinguersi dalla serie di Civ ci sono diverse intuizioni interessanti. Ho apprezzato in particolare la gestione economica più capillare dei propri insediamenti, che non sono tanto singole città quanto vere e proprie regioni, ed un albero delle tecnologie che ci consente di intraprendere percorsi differenti per sbloccare i vari avanzamenti o per passare all'epoca successiva. Anche la modalità multiplayer mi è apparsa già stabile, con una nuova interessante funzionalità che ci consente di andare a FK per un certo numero di turni senza dover necessariamente abbandonare la partita. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sarà disponibile il 26 settembre su Nintendo Switch. Per la prima volta nella saga la protagonista sarà la principessa Zelda. Link, infatti, è stato risucchiato da una misteriosa fenditura apparsa mentre affrontava Ganon. Altre fenditure simili stanno comparendo un po' ovunque nelle terre di Hyrule, minacciandone gli abitanti, per cui stavolta tocca a Zelda salvare il mondo, accompagnata dalla Fatina Tree, che le ha concesso l'uso della sua bacchetta magica. Con quest'ultima Zelda può creare degli Eki, riproduzioni sia di oggetti inanimati sia di animali e creature. Sfruttare al meglio questi Eki servirà quindi per affrontare i combattimenti ed esplorare la mappa di questa nuova avventura con visuale dall'alto. E finito con la carrellata dei giochi a cui abbiamo voluto dare più importanza in questo video, adesso parliamo di menzioni speciali, remaster, remake, oppure titoli con cadenza d'uscita annuale. E cominciamo il 3 settembre con Star Tracker, che uscirà su PC, Xbox Series X ed S e sarà incluso al Day One nel Game Pass. Come potrete intuire dal nome, si tratta di un simulatore di camion in cui bisogna andare in giro per lo spazio, a consegnare carichi. La peculiarità di questo gioco è che la motrice è una vera e propria nave spaziale, in cui bisogna prestare molta attenzione al funzionamento delle varie strumentazioni, che permettono di sopravvivere nello spazio, come quelle che rilasciano ossigeno e regolano la temperatura della cabina. Sempre il 3 settembre, Harry Potter Quidditch Champions arriverà su tutte le piattaforme e sarà inclusa al Day One nel PlayStation Plus Essential. Gioco basato sul famoso sport, diffuso nel mondo magico di Harry Potter, presenta una modalità carriera giocabile sia in solitaria che in cop online con tre amici, e una modalità PvP online. Cacciatore, cercatore, portiere o battitore sono i quattro ruoli tra cui scegliere e si possono utilizzare diverse scope che cambiano lo stile di volo. NBA 2K25 uscirà il 6 settembre su tutte le piattaforme. La novità principale è rappresentata dal nuovo sistema di motion capture, denominata Pro Play, che utilizza spezzoni di partite reali di NBA per migliorare la fisica dei movimenti dei giocatori. Questo consentirà di introdurre un nuovo sistema sia di controllo palla in dribbling, sia dei movimenti delle difese. Ci sarà poi la reintroduzione dell'Action House per quanto riguarda la modalità My Team, ovvero della possibilità di scambiare direttamente sul mercato le proprie figurine nella composizione del team per giocare online. A distanza di poco più di un anno dall'uscita in esclusiva su PS5, Final Fantasy XVI approderà anche su PC, mentre il 19 settembre sarà il turno di God of War Ragnarok. Sempre il 19 settembre, Dead Rising Deluxe Remaster approderà su PS5, Xbox Red XS e PC in versione digitale, mentre per quanto riguarda la copia fisica bisognerà attendere l'8 novembre. Si tratta di una remaster, che si avvicina molto ad un vero e proprio remake, del gioco reso celebre perché permette di uccidere gli zombie nei modi più assurdi e disparati. Tra le novità troviamo miglioramenti alla grafica, doppiaggio finalmente completo, salvataggi automatici e un miglioramento al quality of life. EA Sport FC25 uscirà il 27 settembre su tutte le piattaforme. I possessori della Ultimate Edition tuttavia potranno giocare fin dal 20. Per quanto riguarda le novità introdotte quest'anno, la più rilevante sono il QIFC, praticamente un sistema che nelle intenzioni degli sviluppatori dovrebbe migliorare ulteriormente i movimenti dei giocatori in campo e soprattutto delle difese, e l'inserimento della modalità Rush, che è una nuova modalità calcetto 5 contro 5, che però si va a legare a tutte le modalità più popolari, come Ultimate Team, Pro Clubs, Calcio d'inizio e anche Carriera Allenatore. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo video. Tantissimi giochi in uscita il prossimo mese, anche molto attesi e soprattutto di generi diversi, ce n'è veramente per tutti i gusti, dai platform ai gestionali, ai city builder, ai souls like, agli sportivi, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. E non pensate neanche di salvarvi facendo del backlog, perché come abbiamo visto nella serata di inaugurazione della Gamescom, uscirà un sacco di roba anche ad ottobre, per cui giocateli fin tanto che sono caldi, come si suol dire. Quindi fateci sapere voi cosa giocherete o se c'è qualche titolo che avrebbe meritato maggiore attenzione e quindi un posto nella nostra lista. Quindi fatecelo sapere nei commenti, noi vi ringraziamo per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.